attenzione quello che state vedendo non lo state vedendo davvero questo è un dcv quindi bisogna essere bisogna lottare contro il dcv ne vera riccardo vediamo accendi la moto attenzione questo qua è un cerchio nel grano quindi significa che gli alieni esistono davvero e da riccardo è tutto alla prossima puntata